SCM, la prima sim ad essere sbarcata sul segmento I'm Italia di Borsa Italiana con asset under management superiori al miliardo di euro ed un CAGR tra il 2010 e il 2017 del 50%. Siamo con Antonello Sanna, amministratore delegato di SCM Sim. Chiedo al dottor Sanna quanto ha influito ed ha accelerato i tempi dello sviluppo del business la quotazione sul segmento I'm? Ha influito molto perché sono dato una visibilità che non è tipica del settore e ci ha consentito nella fase di reclutamento di nuove professionalità di essere riconosciuti immediatamente. Io credo che oggi in Italia nel segmento finanziario ci conoscano tutti grazie alla quotazione, grazie a questo primo sbarco. e quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a un professionista sai in generale chi siamo, cosa facciamo, quali sono le nostre virtù. Quindi da questo punto di vista per noi è stato fondamentale. Per il lato clienti invece il fatto di essere sul listino tutti i giorni è chiaro che per il cliente rappresenta una garanzia. Una garanzia di trasparenza, di solidità e tutto quello che comporta la borsa. Bene, dottor Sanna, quali sono per SCM Sim i progetti per il futuro e le principali linee guida da seguire? La linea guida principale per noi, siccome la struttura è molto robusta, è proporzionata per un cinquantino di banker, oggi siamo a 30, e quella di arrivare a questo numero al fine di massimizzare il risultato in termini di economia di scala. Per raggiungere questo numero abbiamo deciso di implementare un piano di crescita sui millennials, quindi sui giovani che hanno come caratteristica quello di essere dei laureati con percorsi di formazione ovviamente coerenti, quindi parliamo essenzialmente di economia, commercio e finanze, hanno già esperienza di, parlano fluentemente l'inglese e hanno esperienza sul digitale, che significa anche un nuovo modo di contattare la clientela, perché evidentemente rispetto alle cold call che si facevano qualche anno fa, oggi queste persone sono abituate attraverso i social a contattare nuovi clienti. Abbiamo focalizzato molto l'attenzione su questo segmento al fine di implementare un processo che è virtuoso in un'Italia, che tutto sommato non ha queste grandi possibilità di impiego per quella fascia di giovani. Siamo partiti, ne abbiamo già inseriti 14, quindi nel giro di sei mesi direi un risultato eccellente, con 9 che hanno già superato l'esame e quindi si apprestano ad iniziare la professione in termini concreti. Questa è la linea guida principale, dopodiché continuiamo a dare flessibilità sui prodotti, dall'inizio dell'anno abbiamo una linea che è solo dedicata al segmento PMI, ma non è un PIR, quindi è proprio una linea che ha questa finalità e continuiamo a rilasciare prodotti con sottostante intelligenza artificiale, ma che sono, diciamo così, a corollario di questo principale progetto che è quello che guidare all'azienda per i prossimi tre anni. L'azienda sta costruendo il management del futuro, del suo futuro. Grazie dottor Zanna di SCMSIM. Grazie a tutti. Grazie a tutti.